Una fresa sporca di sangue è stata trovata accanto al corpo di Giosuè Sorrentino, 35 anni, marittimo di Sant'Agnello, in provincia di Napoli. Il suo cadavere è stato trovato con la gola tagliata a bordo di un mercantile in rada a Venezia. Secondo fonti degli investigatori, la ferita mortale è compatibile proprio con le lame dell'attrezzo. L'ufficiale di ispezione Campano è stato trovato senza vita domenica mattina alle 8.30 a bordo della Bianca Moretti, su cui era imbarcato come motorista in rada a Malomocco, nella laguna di Venezia. Oggi sarà eseguita l'autopsia che chiarirà il perché della morte del ragazzo. Indaga la squadra mobile diretta da Angela Lauretta con il sostituto procuratore Stefano Ancillotto. Si attende il referto del medico legale Cristina Mazzarolo per fare finalmente chiarezza. E resta sotto sequestro la sala macchina dove è stato trovato cadavere Giosuè, anche la sua cabina personale. Le 20 deposizioni rese dall'equipaggio parlano di un uomo introverso ma particolarmente ben voluto da tutti. Si allontana l'ipotesi di un omicidio, restano in piedi quelle di un incidente sul luogo di lavoro piuttosto che di un suicidio. Si sfogliano le pagine del suo diario per scoprire gli ultimi giorni di Giosuè. Quelle pagine rivelano una particolare tristezza dovuta a motivi personali. Per tutti e due i giorni prima della tragedia Giosuè aveva scelto di restare in cabina. Aveva preferito stare da solo ma a distanza di due giorni amici e parenti di Giosuè rifiutano categoricamente l'ipotesi di un suicidio a partire da suo padre Antonino e mamma Giuseppina. Sant'Agnello e la sua comunità si stringe nel dolore per la tragica fine di un ragazzo umile, lavoratore e apprezzato da tutti.